Sì, sicuro, sicuro così, però mi chiede che è un fatto dove il MFK costuma a capire con il MFK che ha visto una cosa e un altro e ha presentato un mese come un partito simplemente inconfiabile. E qui mi tengo guarda la parola di signor Knops, dopo che il nostro ministro di finanza in Baiolanda firma per un accordo per la FIA 92 milioni di florin e il prossimo giorno va a declarare la imprensa con un po' di pressione per il accordo con il corso. Questa è una forma di operare nel partito del MFK e mi dico che bisogna in seguida non riconoscere che il nostro partito non lo confia ma non ha pensato una cosa, ma non è un altro. E qui, contro il corso, sta portando una campagna politica claramente, mi ricorda la parola di miembro del Parlamento, il signor G.B. Doran, che mi ha riconosciuto chiaramente e ora qui sta portando una posizione in Baiolanda firma per un altro, ma non è un altro problema e non ha una soluzione di parte del MFK. Non ci sono mai scoperto, ma il signor Silvani dice chiaramente nel Parlamento che non c'è un plan B, e la dice che il unico plan B che ho portato è una coprablastazione, ma non c'è un altro plan B. La dice chiaramente che il mio collega, il signor Cooper, la papia, è una forma incorreta, ma non c'è un plan B. A partito tratta di scappare la cara, tratta di balanza cose, ma è stata davvero simpola. La cosa è stata inserita in Baiolanda, il plan B non è mai scoperto, è un bloc bassi a vendere la comunità, e la comunità è comprensata e allora non si senti che di conseguenza, questa è la soluzione che il l'anno a tardo quasi un anno per vivere la realtà. Quindi 30 milioni di euro per andare in anno, guardando per avere invertito in direzione, non c'è quasi un anno di fondo, non è ancora in Baiolanda, per motivo di posizione che il partito è andato dopo questa elezione. Questa è MFK adesso, con il intero processo con il l'anno che vuole, e con il inversione, un regalo di 30 milioni di euro vuole, con la nostra scoperta, non è ancora in Baiolanda, non è ancora in Baiolanda, non è ancora in Baiolanda.